La tradizione con questo freddo i nostri nonni ci avrebbero consigliato di berci un bel graffino. E allora noi seguiamo il consiglio, ma prima cerchiamo di scoprire qualche curiosità su questo distillato esclusivamente italiano. La prima curiosità è che il termine graffa è un'indicazione geografica protetta italiana, tutelata dall'Unione Europea e nessun altro paese può utilizzare questa disegnazione. E anche la metodologia è protetta e tutelata. La graffa è un acquavito di vinaccia ricavata esclusivamente da uve prodotte vinificate in Italia. La vinaccia è ciò che rimane di un'acina d'uva eliminata la sola polpa, ovvero dopo la figgiatura. Ci sono tre tipologie di vinacce da cui viene distillata la graffa. Ci sono le vinacce fermentate ottenute dalla svinatura del vino rosso. Ci sono poi le vinacce semi-vergini che sono ottenute dalla svinatura del vino rosato. E infine ci sono le vinacce vergini che sono ottenute dalla sgrondatura nella vinificazione dei vini bianchi. Un esempio eccellente di produttore di graffa, precisamente in Valtervina, è l'azienda Schenatti della Morte. Dall'orità artigianale e filosofica di Giuseppe della Morte, Mastro Distillatore appartenente alla poltaschiera dei famosi graffat, l'azienda si distingue dagli anni 60 nella produzione di graffa di vinaccia della Valtervina e di liquori a base di graffa, frutti ed altre erbe presenti in questa fantastica località. In un uovo in liberi potete trovare diversi prodotti, come la graffa sforzato di Nebbiolo Deluxe. Lo sforzato deve il suo nome alla tradizionale pratica di forzatura dell'uva chiavennasca, che prima dell'alteggiatura viene messa a riposare in cassette in zone molto reggiate. Abbiamo poi il liquore graffa di mirtilli Deluxe, composto da mirtilli di bosco e finissima graffa della Valtervina. Un tipico liquore ottimo come digestivo, ideale nella preparazione di cocktail, e perfetto da versare sopra i dessert a base di gelato. Le bottiglie di schienazzo della morte sono tutte da degustare, ma sono anche un regalo perfetto grazie alla loro confezione astricciata. Ora non ti resta che degustarle, quindi vai su un uovo in liberi, scegli la tua graffa e noi te la consegniamo in 30 minuti.